Una grande vittoria della legalità a Mesagne, per anni considerata la culla della Sacra Corona Unita e che oggi invece punta al riscatto. Non a caso il comune del paese Brindisino ha messo a bando pubblico un immobile confiscato alla criminalità in via Giuseppe Trono, aggiudicato dall'associazione Amici di Nico di Matino, che l'ha trasformato in centro per bambini e adolescenti con autismo. Questa iniziativa assume un valore altamente simbolico perché questa attività in favore di chi soffre della sindrome dello spettro autistico si svolgerà all'interno di un bene confiscato alla malavita organizzata. Un luogo aperto al territorio dove tutti possano sentirsi a casa e non ospiti. La nuova sede offrirà servizi e progetti per tutte quelle famiglie che vivono ogni giorno l'autismo, diventando il punto di riferimento che il territorio della provincia di Brindis si attendeva da tempo. Un sogno ancora che si sta avverando perché da oltre 15 anni noi stiamo cercando di rispondere ai bisogni delle famiglie, ogni giorno cercando di fare un nostro piccolo tassello in un grande mosaico. Noi speriamo che questo centro sia e diventi un punto di riferimento per tante famiglie, per tanti ragazzi e per tanti bambini che sono interessati da questo disordine evolutivo e che possa rispondere davvero a tanti bisogni che sono complessi e non sempre semplici.